Iniziative voucher per le famiglie per trascorrere un Natale solidale. Sono le misure messe in campo dall'amministrazione Palomba per fronteggiare la crisi economica sul territorio dovuta al Covid. Negli studi di TV City l'assessore alle politiche sociali Luisa Refuto illustra le attività messe in campo dal Comune. L'amministrazione ha voluto mettere in campo una serie di iniziative. Il lavoro a cui arriviamo oggi è sicuramente un lavoro di squadra. Io mi confronto generalmente anche con i miei consiglieri di riferimento, con il Darole Brancaccio della lista Il Cittadino. A seguito di questa collaborazione quotidiana l'amministrazione Palomba oggi parte con una serie di iniziative. Prima di tutto la questione dei voucher, i buoni spesa che possono essere spendibili nelle attività commerciali di Torre del Greco entro il 31-12. Sono buoni che in pratica vanno alle famiglie indigenti proprio per dare la possibilità di poter usufruire anche di poter fare una spesa decorosa che si spera di poter compiere a Natale. L'avviso pubblico è visibile sull'albo proiettore del Comune di Torre del Greco e la modulistica è sempre scaricabile sul sito e va inviata tramite indirizzo PEC o tramite semplice email. Non solo voucher alimentari partito in queste ore, anche un avviso pubblico di coprogettazione per individuare soggetti del terzo settore, per progettare e gestire servizi socioeducativi e socioassistenziali a favore delle famiglie del territorio in particolari difficoltà. Con questo avviso di coprogettazione ci rivolgiamo agli enti del terzo settore per dare la possibilità alle famiglie indigenti di trascorrere un Natale sereno. L'idea è quella di attivare una distribuzione per tramite della cooperativa, che comunque verrà individuata tramite procedura pubblica, distribuzione di pasti caldi, di pacchi alimentari, tutto gestito dalla cooperativa. Inoltre è previsto lo stanziamento dell'istituzione di un fondo di solidarietà. Con questo fondo di solidarietà è possibile aiutare le famiglie indigenti per il pagamento delle utenze, a titolo esemplificativo la bolletta del gas, della luce, oppure per comprare medicinali. Un'ulteriore attività prevista sempre con questa progettazione è quella di permettere ai bambini, che purtroppo hanno genitori con problemi economici, di trascorrere un Natale sereno. Quindi è prevista anche l'acquisto di regalini per i bambini che possono trascorrere un Natale sereno, come giusto che sia. Operativo anche un centralino per fornire supporto psicologico alle persone in isolamento domiciliare. Con l'assistenza di prossimità l'idea dell'amministrazione Palomba è quella di dare possibilità anche di poter avere uno sfogo con una persona competente, in questo caso uno psicologo. L'assessore risponde infine alle polemiche sui social per i soldi investiti dal Comune, per le luminarie e il programma di Natale. La polemica potrebbe avere senso se ci fossimo dedicati soltanto alle luminarie. C'è da dire che questa variazione è stata fatta in un momento in cui si sperava di poter tornare alla normalità, si sperava di poter vivere un Natale sereno. L'amministrazione decide comunque di portare avanti l'idea delle luminarie, seguo la linea sposata dal sindaco Giovanni Palomba, perché comunque tutto il resto non l'abbiamo dimenticato, perché comunque noi siamo speranzosi di poter trascorrere un Natale sereno e come ha detto il sindaco preferiamo una città con le luci per vivere comunque un Natale sereno, tenendo comunque conto di tutte le altre attività che come abbiamo detto abbiamo comunque messo in campo, quindi abbiamo ritenuto di dare comunque lustro alla città anche con le luminarie. Grazie